ecco vai si così mollo che cazzo va easy wild è un po' più wild questo occhio gradino mi rischio in puntino siete è da prendere un po' più veloce conoscendolo si fa male la mano si nel pozzo più brutto è proprio da fermi è vero infatti io sotto ho picchiato il bash è tutto ok? Ehi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.